Ciao, sono Simone Buratti, nuovo digital manager di Scotsman Ice, leader mondiale nella produzione di macchine per il ghiaccio. Qui a Dost presentiamo Legacy, la nostra prima macchina del ghiaccio esclusiva ed edizione limitata in soli 250 pezzi. È una macchina che è un perfect mix tra qualità ed innovazione. Venite a trovarci per scoprirla. Nei prossimi mesi noi abbiamo l'obiettivo di conquistare sempre più quote del mercato nel settore della mixology e del coffee specialist. Infatti ci stiamo attivando come sponsor del campionato del mondo del caffè e siamo sponsor anche dell'International Bar Academy. Grazie. Grazie. Grazie a tutti